ok per me possiamo iniziare benissimo cominciamo adesso 9 35 abbiamo un'ora e mezzo circa davanti a noi per questo webinar sull'informazione tra etica bioetica e attualità organizzato dal teneo pontificio regina apostolorum della facoltà di bioetica e sono grato per l'invito che mi è stato rivolto per moderare introdurre questo incontro anche io mi occupo di di questioni bioetiche ormai da diversi anni sono ad avvenire sono coordinatore dell'inserto evita che esce ogni giovedì ormai dal 2005 quindi siamo numero che esce domani siamo 746 quindi una strada che ho visto che è corsa in parallelo per buona parte della storia anche della facoltà di bioetica che nasce nel 2001 e le pagine che coordino sono appunto soltanto di quattro anni dopo abbiamo veramente fatto strada insieme questo è il segno anche di una sintonia di un'amicizia è confermata appunto anche da progetti che stiamo conducendo insieme e anche da questa mattinata quindi sono veramente grato dal benvenuto a tutti i relatori a chi ci sta seguendo e è importante sottolineare l'interlocuzione fedele stabile intelligente attiva dell'ateneo e della facoltà con il mondo della comunicazione che ne ha un gran bisogno come giornalisti ci rendiamo conto sempre di più della sostanziale inadeguatezza non vorrei dire in preparazione per mancare di rispetto verso qualcuno che invece ha studiato seriamente si applica molto però una generale inadeguatezza nei confronti di temi che hanno fatto irruzione ormai da diversi anni stabilmente nella comunicazione nell'informazione nel menu informativo della gente questioni di carattere tecnico tecnico scientifico tecnico giuridico che richiedono competenza per lo meno un minimo di alfabetizzazione e che richiedono anche sensibilità soprattutto perché sollevano grandi interrogativi quindi occorre anche non solo preparazione ma molto rispetto perché si tratta di questioni di coscienza e sono uno snodo nevralgico un elemento diciamo di quasi un reagente diciamo per l'informazione perché rivelano anche pensieri occulti per così dire linee di pensiero questioni culturali vengono emergono alcune faglie del nostro tempo affrontando i temi di bioetica e sia si sono affrontati temo questa un'idea che mi sono fatto ma penso che sia abbastanza ovvia persino questioni nuove se questioni sempre più nuove pensiamo anche le questioni appunto della neuro etica anche recentemente altre grandi questioni sul fine vita che sono affermate anche nella loro complessità questioni nuove con strumenti vecchi mi sembra cioè strumenti che il giornalismo conosce bene per applicarli per averli applicati per continuare ad applicarli ad altri campi la politica per esempio non è lo scontro ideologico di fazione e appartenenze le grandi appartenenze ideali e si fa della bioetica un terreno di scontro e questo nuoce gravemente si potrebbe dire alla salute del degli utenti perché non li mette in grado di capire la sostanza dei problemi sempre più spesso vedo con grande preoccupazione il fatto che la sostanza delle cose cioè i fatti vengono rimossi ignorati o addirittura modificati o semplicemente raccontati a metà o per un terzo per un decimo facendone sparire una gran parte ad esempio lo faccio soltanto perché anche seguiti in questi giorni in questo tetraplegico marchigiano 46 n fabio ridolfi che purtroppo è morto l'altro giorno dopo una brevissima agonia per la sospensione delle cure il distacco dei supporti vitali e l'attivazione della sedazione profonda benissimo tutta questa quest elenco semplice di procedure che vi ho che vi ho citato che voi conoscete molto meglio di me e che fanno parte di una legge discursa quanto si vuole ma la legge dello stato del 219 del 2017 l'informazione in gran parte non le ha riportate l'ha raccontato come un gesto di ribellione verso la mancanza di un'altra legge quella sul suicidio assistito non era così semplicemente con grande dolore con grande sofferenza certamente anche con un approccio molto anche aspro in alcuni punti per la sofferenza patita il paziente ha fruito di un diritto che riconosce la legge non è che ha lamentato la mancanza di un altro diritto e perlomeno molti attorno a lui l'hanno fatto tant'è vero che quella famiglia ha invocato il silenzio ecco però i fatti in quanto tali sono stati largamente ignorati o manipolati questo rivela anche il fatto che molto spesso lo si fa perché non li si conoscono molto semplicemente ho avuto modo di verificare in qualche dibattito che colleghi giornalisti si limitano alle categorie di carattere dello scontro ideologico laici contro cattolici progressisti contro conservatori rimettono in campo le figurine che sembrano funzionare così bene nello scontro sui temi di bioetica e non guardano i fatti mentre su altri temi dall'economia alla alla politica dal calcio persino a grandi temi di carattere tecnologico i fatti non possono essere ignorati perché sono sotto l'occhio di tutti non si capisce perché sulla bioetica invece i fatti vengano rimossi per questo è molto importante veramente molto importante l'iniziativa di formazione dell'ateneo della facoltà che si si va a presentare oggi a introdurre e che si andrà poi a celebrare durante il corso estivo con un modulo formativo ad hoc per i giornalisti molto opportuno perché ci pone proprio dentro il contesto in cui ci troviamo che pone formidabili domande di carattere etico abbiamo due grandi temi due grandi ambiti che due grandi sfide che ci hanno ci hanno ci hanno quelle quali abbiamo dovuto confrontarci negli ultimi anni direi la pandemia e poi più recentemente la guerra che pongono interrogativi di carattere etico formidabili direi ogni giorno abbiamo visto alcuni criteri alcuni punti di riferimento all'opera quanto siano indispensabili ed è forse opportuno che poi ne facciamo tesoro e ricustodiamo appunto la conoscenza dei fatti perché la realtà non può mai essere rimossa la pandemia ce l'ha dimostrato in modo anche molto amaro e la vita come principio primo che va tutelato la difesa delle persone più vulnerabili lo vediamo sia nelle persone anziane durante la pandemia sia delle vittime della guerra i profughi innanzitutto i civili l'importanza della relazione della cura salvifica addirittura durante la pandemia anche adesso appunto il fatto di porsi in relazione con chi fugge dalla propria terra non sono soltanto per dargli una casa ma anche per cercare di farlo sentire a casa il bene di tutti raggiunto attraverso la rinuncia a qualcosa di proprio quindi contributo di ciascuno nessuno si salva da solo ecco la famosa frase del papa e il fatto che appunto lo scarto come lo chiama il papa cioè la selezione della vita umana l'indifferenza nei confronti degli altri sono risultano letali in questo momento su questo l'informazione e anche lo studio anche il mondo dell'accademico hanno una responsabilità molto grande l'informazione perché appunto forma la coscienza della gente non è possibile che affrontando la questione appunto un interrogativo di carattere etico lo si percepisca come un tema che certamente ferisce la coscienza perché interpella ma anche doloroso perché apre inevitabilmente ad uno scontro una fronteggiarsi vicendevole spesso anche in modo molto asco questo non è più possibile credo che occorra veramente bonificare fare un'ecologia dell'informazione per questo è opportuno questa mattina e passo a questo punto a introdurre i lavori di questa mattinata con cinque relatori che potrebbero essere anche sei speriamo se riusciranno a partecipare tutti ci aiuteranno a capire appunto quanto siano delicate le sfide di carattere etico bioetico che ci troviamo a maneggiare in questi in questi in questo tempo così complesso così cupo così incerto e quanto rinfo quanta responsabilità abbia l'informazione avremo con noi cito nell'ordine in cui parleranno il professor alberto garcia decano della facoltà di bioetica e c'è rolder della cattedra unesco in bioetica e diritti umani il professor gonzalo miranda che è docente della facoltà di bioetica e membro del collegio direttivo della federazione internazionale di bioetica personalista il professor alberto carrara che direttore del gruppo di ricerche neuro bioetica della cattedra unesco in bioetica diritti umani mino carrara collega giornalista che porterà al punto di vista dell'informazione il professor francesco bellino che la presidente della società di bioetica e i comitati etici e speriamo anche il professor filippo maria boscia presidente dei medici cattolici che è impegnato in una mattinata di questioni cliniche quindi potrebbe avere qualche ritardo speriamo di averlo tra noi in coda a questa mattinata senz'altro chiedo al professor garcia dopo questa spero non troppo lunga introduzione che ma sono temi che mi stanno molto a cuore e interpellano tutti i giorni di illuminarci sul informare e formare in bioetica la sfida etica per i giornalisti di oggi professore prego grazie francesco per questa introduzione grazie a tutti quelli che stanno facendo possibile questo webinar nel quale in realtà non è diciamo solo e principalmente un momento di formazione ma soprattutto di incontro tra persone che sia del lato accademico sia del lato del giornalismo e studenti o persone utenti dei mezzi di informazione e credo che questo incontro che non sarà sicuramente l'ultimo si consentirà creare un foro diciamo un po interdisciplinare o multidisciplinare dove possiamo arricchirci a arricchirci un po a vicenda se è vero che l'uomo diciamo per la sua natura è relazionale che entra in contatto permanentemente con gli altri che forma la sua coscienza e la sua capacità di vivere in comunità proprio tramite l'informazione l'educazione nella formazione questo e nelle questioni specificamente di bioetica credo che sia una sfida una sfida oggi come oggi e soprattutto perché nell'ambito delle questioni che riguardano la bioetica tradizionalmente e si sono considerati questioni di bioetica quelle un po e che creano come diceva anche francesco conflitto tensioni da un punto di vista politico quindi parleremo dell'eutanasia parleremo dell'aborto parleremo e tante volte ci dimentichiamo che anche noi nell'accademia anche i giornalisti dovremmo puntare anche per una bioetica possiamo dire una bioetica del sì alle volte anche noi possiamo cadere un po nella tentazione nell'ambito accademico di pensare le questioni di bioetica soltanto in chiave di conflitto e tendenzialmente fare una bioetica del no no al lavoro no all'eutanasia e purtroppo lo facciamo e alle volte con delle ragioni che non sono sufficientemente approfondite anche perché la velocità delle notizie anche perché il ritmo della politica tante volte è così frenetico che non siamo capaci di vedere analizzare giudicare questa è la metodologia della dottrina sociale della chiesa vedere giudicare e agire in un modo diciamo ponderato in un modo anche critico e critico non solo per dire di no ma anche per dire di sì e francesco menzionava prima le questioni delle tecnologie emergenti della neuro bioetica dell'intelligenza artificiale della neuro genomica eccetera sono questioni su tante di queste questioni non c'è ancora una una posizione di una parte o dell'altra ancora sicuramente non è entrato in questioni di sangue dove ci sono persone che soffrono è un po' avanzamenti che richiedono l'avvicinamento diciamo al mondo della ricerca sia da parte dell'università sia da parte dei professionali dell'informazione che come diceva francesco non è solo informazione è anche formazione le persone si formano un'opinione l'opinione pubblica viene generata non per i manuali che si studia all'università ma molto tramite i mezzi di comunicazione quindi il fatto che i giornalisti il fatto possano offrire questo servizio nel rispetto di io direi di tre grandi principi che servono per i giornalisti come servono per me come servono per i dottori il principio della verità il principio della libertà e il principio della giustizia sono tre principi molto generale se vogliamo però che noi le dobbiamo mettere in atto in qualsiasi atto comunicativo in qualsiasi atto di dove noi giornalisti accademici ci trascendiamo entriamo in rapporto con gli altri in un clima di verità cioè di trasparenza analogamente a quello che succede nell'ambito biomedico del consenso informato io sto chiedendo io medico ricercatore chiede un consenso informato cioè l'adesione libera di una persona con una informazione sufficientemente completa vera onesta completa allora analogamente nell'ambito della comunicazione e anche noi docenti siamo comunicatori ai nostri studenti vero sia nell'ambito dell'università sia nell'ambito dei mass media sarà importante come offrire quell'informazione il più completa possibile il più analizzata possibile non basta solo diciamo essere un fornitore di notizie ma in quale misura noi nella nostra notizia possiamo vedere i fatti e avere la capacità di discernimento di valutazione delle ragioni pro e con di una certa politica di una norma giuridica di una di un fatto che è successo in un ospedale o che è successo in un in un laboratorio in modo tale che non si tratta di filtrare i fatti ma di illuminare i fatti in un modo critico e ragionato e questo non solo per le questioni classiche della bioetica che creano conflitto ma per esempio per queste questioni del futuro che ancora non si decide non ci sono norme giuridiche e dove noi comunicatori docenti possiamo forse offrire degli elementi di valutazione diciamo in modo opportuno nel tempo e e dall'altra parte io credo che un'altra sfida dei mezzi di comunicazione come anche nostra nell'università e non solo come costruire una bioetica del sì di sostenere l'avanzamento scientifico tecnologico di assicurare che le persone che si occupano della della ricerca possano avanzare per il bene personale anche per il bene comunitario ma come noi ci occupiamo anche delle questioni che incidono sulla vita e la salute delle persone più necessitate in più necessità i più vulnerabili i più poveri oggi sappiamo c'è questa agenda questi 17 principi di obiettivi di sviluppo sostenibile come politica e priorità da parte delle nazioni unite e questo questo anche viene riscontrato in laudato sì nel pensiero anche del magisterio della chiesa cioè la crisi ecologica senza precedenti di cui parla papa francesco è quella che anche i rappresentanti delle nazioni trovano a livello mondiale come noi con la nostra formazione con la nostra informazione possiamo sensibilizzare alle famiglie al mondo del lavoro al mondo dell'economia al mondo della politica per occuparci di quelle cose per minimizzare il problema della fame della povertà della salute di bassa qualità le differenze diciamo e le ingiustizie in diversi campi e queste cose purtroppo non non sono notizie tante volte però sono bisogni fondamentali della società io credo che se noi con questo webinar con il corso estivo che faremo anche con i giornalisti eh in in pochi giorni possiamo avviare questo rapporto questo ponte di comunicazione dove giornalisti e accademici dove ricercatori e responsabile della comunicazione possiamo facilitare e dare più informazione per la formazione della popolazione in generale sicuramente una goccia per contribuire al bene comune al bene diciamo dell'italia e non solo dell'italia lo possiamo dare io ringrazio di nuovo a tutti la partecipazione e rimango qui in ascolto per imparare da voi anche giornalisti comunicatori anche dei nostri docenti come crescere nella virtù della trasparenza del rispetto della libertà e della giustizia anche nell'ambito della comunicazione tante grazie 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 a lei professor garcia decano della facoltà di bioetica cero holder della cazzo dell'unesco in bioetica e diritti umani perché ci ha dato una un quadro introduttivo ampio delle delle sfide che ve lo dico dal punto di vista dei giornalisti ma ci stiamo confrontando con l'ambito accademico quindi di questo possibile dialogo e ponte mi sembra molto opportuno mi sembra veramente un'iniziativa necessaria adesso non soltanto per gli elementi di fatto che citava cioè la questione proprio della della conoscenza della sensibilità ma anche per rendere consapevole la categoria del di chi fa informazione che quindi una grandissima responsabilità di ciò che ha tra le mani cioè una materia delicatissima su nella quale deve muoversi secondo questi criteri che diceva cioè verità libertà e giustizia essere la trasparenza della completezza dell'informazione cioè riuscire a rendersi conto che sono veramente elementi nevralgici per la per la conoscenza che la gente può avere per la sua capacità di fronteggiare questi questi grandi temi davanti ai quali molto spesso si sente smarrita e tende a ascoltare la prima voce apparentemente credibile che sente oppure come purtroppo stiamo vedendo anche un po l'eco mediatica di una informazione un po monocorde ma perché vedendo come come si svolge il flusso dell'informazione molto spesso si prende per buona una fonte che domina un po sulle altre spesso interessata e si copia si dici si limita a riprendere ecco anche molto passivamente per questo è importante sensibilizzare i giornalisti sulla responsabilità perché quando si copia e si incolla un'informazione data per buona semplicemente perché la fonte la si ritiene affidabile per qualche motivo anche di affinità culturale si compie una un po un tradimento senza un po diciamo un tradimento dei criteri guida della professione dell'etica professionale perché occorre appunto sempre una verifica diretta sul campo degli elementi anche molto essenziali non è molto difficile spesso ecco è vero come lei diceva e qui passo alla relazione del professore gonzaro miranda che è docente bioeticista di chiara fama e che è vero come diceva appunto professore garcia che ci troviamo molto spesso a fronteggiare una complessità per noi giornalisti a volte non riusciamo proprio a governarla appunto da una parte per un po di pigrizia mentale dall'altra perché obiettivamente ci troviamo di fronte a sfide complesse complesse davanti alle quali la stessa lo stesso mondo scientifico è diviso non si trova una un'opinione prevalente un criterio di riferimento affidabile per cui si va un po a tentoni e a volte si sbanda e si prende un giudizio così che sembra essere affidabile in realtà non lo è anziché assumere un atteggiamento più prudente anche più più corretto cioè sospendendo il giudizio mettendo in mano ai lettori agli utenti dell'informazione gli elementi per dire dobbiamo ancora camminare dobbiamo ancora crescere in questa nella formazione del giudizio chiedo al professore gonzaro miranda di spiegarci nella sua relazione che si intitola bioetica e mass media un rapporto inevitabile complesso proprio questo tema di come fronteggiare la complessità grazie professore devi attivare il microfono padre questo serve è accesso allora grazie dottor ogni bene per coordinare moderare questo nostro incontro saluto tutti i partecipanti ringrazio gli organizzatori per l'invito specialmente da dottoressa maria selva silvestri allora la tematica è molto importante sono anni che ci lavoriamo nella facoltà di bioetica dove è nato anni fa il gruppo che abbiamo chiamato biomedia con la chiocciola alla fine per proprio perché consideriamo che questo binomio bioetica e mass media mezzi di comunicazione sia un binomio importante e anche direi delicato perché i mezzi di comunicazione parlano di fatto vogliamo o non vogliamo di temi di bioetica e ne parlano spesso televisione radio eccetera giornali ma anche i new media ne parlano spesso per vari motivi ma in realtà se uno ci pensa bene la bioetica è collegata è legata alla comunicazione sociale e dunque al fenomeno del dibattito sociale dall'inizio Johnson uno dei primissimi storici della bioetica scrisse che secondo lui questo fenomeno del coinvolgimento della popolazione nei temi di etica medica bioetica attraverso i mass media sia stato uno degli elementi che ha fatto sorgere la bioetica perché c'era concretamente nel 1960 un caso che ha suscitato un grande dibattito negli Stati Uniti che era quello del un ospedale a Seattle nello stato del Washington perché c'era un nuovo apparecchio che permetteva di fare la dialisi meravigliosa cosa però poi c'erano le code di persone che potevano soffrire di questo nuovo mezzo più lunghe di quello che si poteva offrire come servizio e allora è stato creato un comitato un comitato che non era composto solamente da medici ma anche infermieri ma anche da una casalinga da un filosofo da un giurista eccetera perché si capiva che erano drammi quelle di a chi dare accesso per primo a questo strumento era un problema non solo medico ma anche umano profondamente umano e allora c'è stata una giornalista che sulla rivista Life ha pubblicato un articolo intitolato il comitato di Dio God's Committee loro decidono chi vive e chi muore capite che con questo titolo la gente si è molto preoccupata sembrava che effettivamente decide se tu muori e tu vivi però è riuscita questa si vede che una brava giornalista o il titolista è stato anche bravo questo ha suscitato tra altri fatti un grosso dibattito attraverso i media allora talk show dibattiti eccetera dibattevano su una questione estremamente delicata etica profondamente umana e secondo Johnson questo fatto e altri di quello stesso periodo hanno portato alla nascita della bioetica e come sapete sorge nei primi ultimi anni 60 primisi anni 70 ma perché la bioetica parla e non può farne a meno di no che scusate i media parlano di temi di bioetica perché i temi di bioetica le problematiche di bioetica molte volte sono molto notiziabili io a suo tempo quando ero giovane volevo fare il giornalista mi interessavo di queste cose ho studiato un po per conto mio e ho capito per esempio le quali sono le caratteristiche di un fatto di una cosa perché sia notiziabile e vedete che entrano perfettamente nelle questioni di bioetica innanzitutto la novità una cosa nuova suscita interesse di per sempre siamo animali curiosi noi esseri umani e allora molte volte i temi di bioetica hanno a che fare con nuove ricerche con nuove impostazioni con nuove scoperte con nuove invenzioni con nuove leggi eccetera dunque novità ecco notiziabile il rilievo il rilievo cioè l'importanza del fatto del personaggio che interviene nella notizia eccetera e molte volte qui è soprattutto il fatto che ha un rilievo perché si tratta di cose che toccano la nostra vita stessa cosa interesse umano della del fatto che lo fa diventare notiziabile perché in bioetica sono problemi problematiche fatti che toccano tutti noi se non tocca a me direttamente è toccato un vicino di casa un amico un conoscente che ha avuto anche a che fare questo con questo potrebbe un giorno soffrire di questa nuova scoperta della medicina eccetera eccetera e poi la prossimità in cui la prossimità è un elemento molto importante se il famoso cane che morde il bambino bambino eccetera questa è una cosa rara ma se questo avviene nel mio paese diventa notizia se avviene a Hong Kong magari non mi è tanto interessante però succede che anche se in molte volte le notizie che ci arrivano che vanno sulle prime pagine dei giornali non sono vicine a noi nel senso fisico più stretto però sono cose che poi riguardano noi o riguarderanno noi in un futuro molto probabilmente allora succede ecco che i temi di bioetica sono notiziabili e voi giornalisti non aspettate altro che trovare un fatto notiziabile siete dei cani da caccia di notizie questo lo vediamo tutti i giorni e allora succede che anche il tema del covid di cui si parlerà anche nel in quell'incontro che avremo nei primi di luglio e il tema della guerra adesso in Ucraina sono connotati da queste caratteristiche sono molto notiziabili e allora ecco si vede intervenire moltissimo i mezzi di comunicazione su queste tematiche il che indica che ci danno un servizio perché sono cose in che interessano tutti però sono tematiche molto complesse e allora succede che molte volte su queste queste tematiche delicate vitali nel senso più letterale della parola che toccano tutti noi a volte possono venire offerte le notizie o le opinioni in maniera in maniera problematica indiscutibile diciamo così ci sono spesso dei bioeticisti accademici che si lamentano di come certe notizie certe questioni vengono messe sui mezzi di comunicazione con troppa superficialità con errori con preconcezioni eccetera diceva il dottor ogni bene del rigore nel dare il dato di il giornalista che offre i dati eccetera io ho pensato l'ho detto tanto tempo fa in una tavola rotonda al gemelli se un giornalista della sezione sportiva confondesse la Champions League con la Europa League sarebbe mandato via la sera dello stesso giorno oppure sarebbe mandato alla sezione di bioetica o di religione dove non è tanto grave confondere le cose è una battuta però per dire come spesso appunto gli accademici bioeticisti che stanno lì mesi a riflettere su una questione a dibattere eccetera poi vedono come vengono offerte certe cose sui mezzi di comunicazione viceversa i comunicatori spesso lamentano che noi bioeticisti non siamo o disponibili per comunicare per aiutare nella comunicazione nei grandi media o non siamo capaci di farlo e allora non ci possono invitare non possono soffrire magari della nostra conoscenza perché non siamo capaci di parlare davanti a una telecamera in un dibattito o di scrivere un articolo che sia leggibile e comprensibile allora si crea un conflitto ci sono autori che hanno studiato abbastanza approfonditamente questo conflitto conflitto tra bioeticisti accademici e il mondo della comunicazione di massa ma una cosa che mi sembra importante è questa capire che questa difficoltà che vede questi due mondi mondi bioetica e mezzi di comunicazione come se fossero due individui che sono costretti a frequentarsi per così dire questa difficoltà non è estrinseca e dunque non si può pensare vabbè cambiamo questo cambiamo la natura della bioetica o cambiamo la natura dei mezzi di comunicazione e ci sarà pace ci sarà tranquillità no non è possibile perché una questione intrinseca a questa alla natura di queste due realtà alla natura dei mass media e alla natura della della bioetica delle questioni bioetica in che senso per loro natura i giornali altri mezzi di comunicazione prestano un'attenzione che necessariamente dire quasi per definizione è fugace e transitoria perché il giornale va giorno per giorno e domani deve parlare d'altro e transitoria pertanto e per lo stesso motivo tante volte l'informazione diventa superficiale diventa troppo leggera io mi ricordo una volta partecipare partecipato all'epoca parecchio a rai 1 a 1 mattina e va bene normalmente c'era un po di tempo per la discussione per presentare la propria visione una volta era per una serie di motivi siamo slittati verso la fine cioè alla fine praticamente della del programma di 1 mattina e allora hanno detto vabbè comunque entrate ed era un dibattito sull'eutanasia tra un esponente della chiesa valdese e me dunque una questione anche di diploma diplomatica una questione di rapporto tra religione tra confessione eccetera e dice purtroppo stiamo finendo una battuta a testa ha fatto lui una battuta io ho fatto un'altra battuta in due minuti abbiamo finito io ho detto ma cosa puoi fare in due minuti per parlare con un esponente di un'altra confessione cristiana su una questione così delicata allora in quel caso è stata una situazione un po' estrema ma per definizione per per natura i mezzi di comunicazione soprattutto giornali televisione eccetera vanno aggiornata e dunque purtroppo danno le cose in maniera che per chi è adentro la alla questione sembra troppo superficiale a volte anche un po' banale e non oltre al fatto che si cerca l'emotività ci cerca anche la polemicità se c'è polemica meglio che se siamo tutti d'accordo voi giornalisti conoscete molto bene questi meccanismi e la bioetica da parte sua nella sua natura al contrario tratta di temi spesso molto complessi già il fatto in sé difficile da capire magari dal punto di vista strettamente medico ma come sapete la bioetica interdisciplinare non si fa solo con gli aspetti medici o filosofi allora ha già la complessità la complessità intrinseca al dato tecnico medico biologico ma poi deve aggiungere la questione legale deve aggiungere la questione sociale psicologica deve aggiungere la questione filosofica tante volte addirittura a volte anche teologica è chiaro che questo non lo puoi trattare in maniera direi anche decente con superficialità e allora troviamo questa difficoltà ma d'altra parte questi due mondi convivono e devono convivere e per noi bioticisti è molto importante per una serie di motivi studiati anche da qualche studioso che i temi di bioetica siano nella piazza pubblica perché c'è questa dimensione sociale che è costitutiva della bioetica stessa ecco finisco con questo noi del gruppo bio media alcuni anni fa abbiamo organizzato durante un incontro mensile incontri tra noi del gruppo invitati vari e alcuni esperti chi era un direttore di un'agenzia chi lavorava in televisione chi lavorava due vice direttori di due giornali importanti italiani eccetera per avere un colloquio su questa tematica su questo binomio bioetica e mass media ebbene una delle cose che veniva fuori sempre praticamente sempre nel colloquio era questa dunque i mezzi di comunicazione trattano i temi di bioetica uno due i mezzi di comunicazione non hanno di solito persone veramente preparate in queste tematiche tre i mezzi di comunicazione e queste persone cioè i giornalisti non hanno il tempo i mezzi la disponibilità a affrontare una formazione su queste tematiche e la conclusione era logico e ci chiedevamo sempre come provvedere e allora ecco appunto questo è questa iniziativa di fare degli incontri tra i bioeticisti e informatori comunicatori per vedere dai due punti di vista le tematiche della bioetica che sono anche tematiche dei comunicatori ecco credo che sia importante che i comunicatori prendano coscienza della responsabilità che hanno informare bene correttamente le questioni di bioetica che sono spesso tanto delicate tanto importanti per tante persone e che ci sia la volontà sincera di informare bene e i bioeticisti che abbiamo la coscienza dell'importanza del ruolo del dei mezzi di comunicazione l'importanza di partecipare nella comunicazione di offrire il nostro servizio a disponibilità dei comunicatori e la disponibilità anche di collaborare quando sarà possibile eccetera nei mezzi di mezzi di comunicazione sono due mondi che convivono cerchiamo di farlo nel miglior modo per tutti soprattutto a servizio del grande pubblico grazie 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 a lei padre miranda perché veramente devo dire che mi ha fatto sentire anche molto compreso in questo questa sua relazione perché a volte ci si sente un po soli in questo ambito soprattutto quando si cerca di rappresentare come le diceva appunto tutta la complessità della vicenda che in un articolo a volte in una notizia come lei diceva nei due minuti che ti lascia alla disposizione nei dibattiti è impossibile riuscire a stipare però è questa la comunicazione con questo suo invito a tener conto che del fatto che bioetiche mass media devono convivere anche se sembra che si guardi la bioetica con un po di sospetto e un po di timore fondatissimo nei confronti dell'informazione perché vede poi come le cose vengono deformate o appunto brutalmente semplificate o abbreviate nel nella narrazione pubblica e mass media perché si rendono conto di avere a che fare con una materia che appunto interroga le coscienze quindi divide molto ma è molto complicata sicuramente ogni tema e soprattutto mi faceva venire in mente che avremo nei prossimi giorni quasi certamente un'altra esercitazione pubblica diciamo eclatante persino globale su questo aspetto perché è attesa a giorni o addirittura a ore la sentenza della corte suprema americana sulla questione dell'aborto e vedremo di nuovo appunto applicarsi queste storie le teorie gli elementi che stiamo esaminando i punti di riferimento con questa idea sempre che si affrontano questioni bioetiche bio giuridiche con l'ascia della polemica politica perché questo poi tende a essere no cioè la corte suprema sta affrontando di fatto da una parte lo statuto del nascituro tutto giuridico e dall'altra l'identità del nascituro cioè chi è la vita la forma di vita umana di vita e che che nel grembo materno e quindi se è meritevole o meno di tutela esattamente come qualunque altra vita umana perché questo è modo della questione sono curioso di vedere se qualcuno lo accoglierà perché nel momento in cui la corte suprema dovesse schierarsi da una parte o dall'altra tenderà naturalmente a prevalere un'ammarrazione di carattere politico no per cui anche la riflessione che mi viene da fare e che adesso rilancio al professor carrara professor alberto carrara che parla appunto di infodemia cioè di eccesso persino di informazione anche non richiesta su questi temi che un po paradossale e se non non accade persino il paradosso per cui alla fine ad accostarsi nei mass media questi temi non soltanto non sono le persone competenti che introdurrebbero elementi di chiamiamola insopportabile complessità quasi quasi come fu come se fosse incompatibile con con lo strumento mediatico ma addirittura vengono messi appunto come diceva persone che si occupano d'altro molto spesso e che hanno criteri di valutazione molto diversi e attenzioni molto diverse tendono anche per necessità diciamo così di bottega a far prevalere gli elementi emotivi appunto come diceva lei notiziabili e polemici perché questo e i social media lo insegnano crea coinvolgimento engagement dibattito attenzione e anche un attento un interesse da parte delle persone a volte anche persino eccessivo e comunque purtroppo non così profondamente informato ecco professor Alberto Carrara che chiamo in causa direttore del gruppo di ricerche in neuro bioetica della cattedra unesco in bioetica e diritti umani e chiedo di affrontare il suo tema infodemia e comunicazione della scienza che mi pare da questo punto di di vista esemplare proprio perché per i temi che ha citato anche il professor Miranda cioè in particolare la pandemia che ci ha portati dentro questo questa emergenza appunto del saper fronteggiare una quantità abnorme di informazione però non non molto regolata non molto organizzata e nemmeno posta in termini critici sufficientemente eh aperti appunto a un dibattito vero ecco professore prego bene buongiorno a tutti grazie dell'invito a questo webinar io effettivamente affronterò ehm in modo molto sintetico anche perché il mio intervento sull'infodemia la comunicazione della scienza nell'era covid poi verrà affrontato in modo molto più specifico nel webinar che stiamo organizzando proprio il 5 e 6 luglio quindi sarà una sorta di introduzione a questa ampia tematica e potremmo dire così l'organizzazione mondiale della sanità effettivamente definì così l'infodemia e poi la descriverò in 5 fatti dice così il vero virus globale è quello per cui nessun vaccino arriverà mai di cosa stiamo parlando con questo termine infodemia io direi che se da una parte il termine pandemia eh lo avevamo da sempre collocato in un ambito molto specifico che era quello medico clinico oggi pandemia risulta un termine polisemico abbiamo accanto la dimensione medico clinica la dimensione psichiatrico psicologica la dimensione politico economica abbiamo e stiamo assistendo ad una vera e propria pandemia informativa caratterizzata da che cosa da una diffusione incontrollata di notizie fake news e su questo ci siamo occupati anche con una commissione ad hoc insieme ad Aleteia al Vaticano eccetera proprio sulla comunicazione o la cattiva comunicazione la creazione di fake news proprio nell'era o nella pandemia da covid 19 e queste diffusione di notizie incontrollate fake news contribuiscono a distaurare un certo clima questo clima di forte potremmo dire incertezza alcuni lo dicono proprio così un clima di forte indecidibilità e questo potremmo dire è stato causato da che cosa da quello che è anche il filosofo italiano poi professore di filosofia dell'informazione oxford luciano floridi definì proprio un surriscaldamento di quella che lui chiama l'infosfera globale e io descriverei un po questo percorso che tocca proprio il tema come diceva il dottor ogni bene delle emozioni alla fin fine in cinque fatti il primo fatto è proprio uno scombuglio potremmo dire così l'essere travolti da eventi notizie ritardi distorsioni fughe di notizie un po quello che è accaduto nei primi mesi anzi potremmo dire dalla fine da dicembre 2019 gennaio e febbraio del 2020 questo un po un primo fatto il secondo questo risurriscaldamento dell'infosfera creato dalla condizione pandemica dal virus stesso e poi da tutto quello dalla narrativa attorno a questo virus l'impossibilità durante il lockdown di avere esperienze dirette delle cose che hanno slegato e hanno segnato che cosa il ritorno poi i comunicologi mi correggeranno ma alcuni autori parlano del ritorno di quella potenza dei mezzi di comunicazione tradizionali come la televisione e lì ecco un potere quasi assoluto a che cosa alla funzione testimoniale degli opinion leader vari pochi virologi molti parassitologi e di tante altre specializzazioni sappiamo che i virologi veramente doc in italia sono circa 200 e non sono moltissimi e effettivamente non so quanti conoscono il professor giorgio balù però effettivamente poche volte si espresse si esprime in televisione ma lui è stato è un grande virologo italiano è stato il presidente della società virologica europea oltre che quella italiana una persona che oggi ricopre l'incarico di presidente dell'aifa forse la persona forse più competente di tutti coloro che abbiamo visto nei primi mesi della pandemia per poter essere tutti i giorni in televisione e lui non c'è quasi mai stato forse perché aveva altro da fare la terza fase che alcuni descrivono è questa una fase che chiamano dell'autocomunicazione di massa e della rete che realmente ha fatto generare una infodemia tale da rendere necessaria un'opera di traduzione di potremmo dire così veri di cercare la verità delle notizie e ha reso questa ricerca della verità delle notizie molto ardua quasi impossibile per la stragrande maggioranza delle persone e qui viene il tema dell'interpretazione degli eventi e quindi di formare un criterio per poter interpretare la realtà cosa che non è affatto scontata nella contemporaneità come formiamo come posso formarmi un criterio per discernere tra la mole di dati che ricevo in tutte le piattaforme che utilizzo costantemente nella giornata da facebook twitter instagram tik tok adesso per i giovani eccetera eccetera c'è un bombardamento di informazione quindi la incapacità anche nella velocità di ricezione di queste informazioni anche di poter discernere l'altro fatto è stato il quarto l'iper tematizzazione della pandemia all'interno di un frame di agenda setting come alcuni dicono che ha creato una grande confusione informativa contribuendo a accentuare accelerare quei processi emotivi tipo la paura l'angoscia alimentata sia dalla comunicazione mainstream che soprattutto da quella della rete e poi l'ultimo fatto ecco questa aumentata incertezza sociale suscita e ha suscitato e poi ha contribuito anche ai problemi legati alla pandemia in ambito psichiatrico psicologico ansia rabbia ecco queste emozioni rilevanti e come osserva anche l'organizzazione mondiale della sanità alla base a mio avviso ecco di tutto questo quadro che effettivamente semplicemente abbozzato c'è un grande problema di fondo a mio avviso uno degli snodi il nodo chiave da sbrogliare nella contemporaneità è la domanda come insegniamo la scienza nelle scuole nelle università soprattutto io direi anche dalle scuole medie e superiori come stiamo descrivendo la scienza ai nostri studenti una visione fallace di ciò che è la scienza e di ciò che essa promette questo secondo me è stato ciò che ancora non viene comunicato bene e che porta la stragrande maggioranza delle persone a un fatto psicologico di ritorno quale quando la scienza non riesce ad essere all'altezza di una affidabilità ecco si parlava prima appunto del tema dell'affidabilità esagerata quindi c'è una caricaturizzazione della scienza come se fosse la panacea o una nuova religione che risolve o deve risolvere tutti i miei problemi dal punto di vista psicofisico quando questa visione esagerata della scienza del suo metodo non corrisponde quindi non risulta più affidabile proprio perché c'è un fallimento nel reale perché effettivamente non è il compito della scienza risolvermi tutti i problemi e sempre allora questo alimenta lo scetticismo nei suoi confronti e abbiamo visto no il pendolo coloro che hanno sposato prima l'emma o il motto fidati in modo assoluto della scienza dopo sono diventati molti di loro sono diventati gli aceri nemici per esempio della scienza dei vaccini eccetera quindi la domanda anche è che tipo di affidabilità che tipo di affidabilità attribuiamo anzi meglio la scienza stessa in questo caso la scienza mi riferisco alla scienza che utilizza quella sviluppata sia nel 17esimo secolo attraverso il metodo empirico che è un metodo che poi ha avuto anche una progressione nella riflessione anche della dei filosofi della scienza che tipo di affidabilità insegniamo che tipo di affidabilità della scienza di descrizione della scienza comunichiamo alla base certamente vi è il potere potremmo dire un o il problema epistemologico il problema epistemologico e qui semplicemente poi ci sarà tempo a luglio di approfondire ecco sottolineerei alcune cose la natura della scienza paradossalmente è o l'idea che la scienza non sia solo una delle guide affidabili alla verità ma sia l'unica via affidabile della realtà questo è il grande problema cognitivo e anche psicologico che poi fa prendere molte derive proprio perché quest'unicità che alcuni invocherebbe non solo come una delle vie possibili per leggere attraverso un metodo concreto e quindi una razionalità concreta che non è l'unica tipo di razionalità ma è una delle molteplici fisionomie aspetti dell'intelligenza umana su questo si potrebbe anche citare Howard Gardner il grande psicologo delle intelligenze multiple quindi anche questa multidimensionalità della nostra razionalità che appunto non è compresa in modo univoco da un metodo come quello scientifico ecco quest'unicità ecco ha portato a credere che la scienza sia infallibile e quindi attribuirle una fiducia incondizionata cosa che la scienza non ha mai voluto proprio perché la scienza in modo paradossal lo potremmo dire ironia della sorte la scienza si basa proprio sul dubbio e sull'errore cioè il suo metodo progressivo dinamico implica e coimplica dubbi e errori la stessa scienza dei vaccini non ha mai preteso almeno come costituzione diciamo anche a livello come scienza dei vaccini in questo caso anche dei vaccini anti covid non ha mai preteso di essere senza pecche senza errori la stessa analisi della stessa review dell'anno scorso di nature dove mette tutta la storia dei vaccini dalla scoperta dei vaccini rna messaggero dalla scoperta dell'rna messaggero negli anni 60 ad oggi fa vedere una pletora enorme di scienziati di studiosi ognuno con la propria storia biografia con i propri conflitti anche umani quindi nella scienza non tutto è geometrico non è non è matematica ci sono anche interrelazioni umane importanti quindi ecco questa visione perfezionista della scienza non corrisponde al proprio metodo un autore diceva in fin dei conti sia coloro che esaltano la scienza sia coloro che la disprezzano inseguono la certezza di un universo incerto gli anima un'intolleranza nei confronti degli errori quasi calvinista essi vorrebbero un mondo fatto di distinzione nette fra bianco e nero dove la possibilità di sbagliare non è contemplata e questo effettivamente la narrazione sbagliata non corretta di che cosa è la scienza nella scienza l'insuccesso non è un'opzione non è un'opzione ma un requisito quanti da quanti insuccessi sono sorte poi grandi scoperte quindi no l'insuccesso non è un'opzione è un requisito la scienza non è incompleta solo a volte lo è sempre cioè nella progresso del metodo scientifico c'è sempre l'incompletezza le teorie le ipotesi eccetera poi abbiamo la verificazione poi la falsificabilità eccetera eccetera quindi la scienza non è incompleta solo a volte lo è sempre lo deve essere e quindi la scienza in un certo senso mi è piaciuta questa frase che ho letto la scienza in un certo senso è il compito di rendersi obsoleta sempre sempre e quindi diventi in un certo senso scienziato e con questo concluso perché mi manca proprio un minuto diventi scienziato quando sei capace di guardare qualcosa che pensavi di aver compreso di aver capito e giungi a dire non è così non è corretto c'è qualcosa che non inquadrano ecco questo è a mio avviso il dinamismo e anche l'essenza che poi si potrebbe sviluppare molto di più di ciò che dovremmo insegnare nelle scuole e che purtroppo non è molto spesso così una radice profonda di questo fenomeno in parte è aver abdicato a quella cultura o quel connubio potremmo dire quella necessità di tessere un ponte tra quelle che charles percy snow questo grande fisico e letterato inglese già nel 1959 nella sua red lecture caricaturizzava il lo scenario contemporaneo come una frattura tra due isole no il mondo scientifico tecno scientifico da una parte il mondo umanistico dall'altro effettivamente allora l'aver abdicato in parte a questo connubio questa sintesi invece non solo produttiva ma questa intrinseca potenza perché sono diciamo delle dimensioni della razionalità umana quella umanistica e quella tecno scientifica ecco che non dovrebbero scontrarsi opporsi in antitesi bensì dovrebbero complementarsi a vicenda l'una dovrebbe aiutare l'altra ecco allora che questa radicale abdicazione fa sì che ci sia una incapacità oggi di interrogarsi criticamente sulla realtà e per questo secondo me anche questi webinar e quelli successivi e tutto il tema anche di come comunicare la scienza la bioetica le informazioni in ambito medico clinico eccetera importante per formare almeno questo senso critico poi c'è anche il tema della povertà del tempo per ragionare che va collegato a tutto il tema della velocità con cui riceviamo l'informazione oggi e poi anche l'ultimo con questo concludo l'assenza o la difficoltà perché sempre una sfida di creare quel ponte che è l'interdisciplinarietà che tanto necessario invocata oggigiorno anche nella sua dimensione di transdisciplinarietà che è una sfida realmente noi come gruppo di ricerca in neurovietica sempre desideriamo l'interdisciplinarietà però ci rendiamo conto da anni che effettivamente più che essere un obiettivo che abbiamo raggiunto è sempre una meta un orizzonte a cui tendiamo proprio perché il dialogo interdisciplinare richiede sforzi ingenti dal punto di vista della razionalità della della meta analisi che bisogna fare ogni volta eccetera quindi è una delle sfide quindi ecco con questo ho dato alcune linee su quello che poi vedremo e approfondiremo ulteriormente nel mese di luglio e ringrazio tutti per l'attenzione grazie professor carrara devo dire molto efficace questo paradosso che mi fa anche sorridere sul fatto che si ritiene che la scienza sia il regno della certezza in realtà il buono buon scienziato è quello che mette in discussione la certezza che pensa di aver raggiunto l'informazione il giornalismo e sembra essere invece il regno per definizione dell'incertezza perché la realtà è continuamente mutevole e non si può dire di averla compresa una volta per tutte anche perché ogni giorno ci squaderna davanti agli occhi novità continue e invece pretende molto spesso di proporsi come il regno delle certezze indiscutibili dei dogmi delle degli assoluti individuati indiscutibili e questo forse meriterebbe appunto sicuramente ed è il compito che si è assunto il gruppo interdisciplinare appunto su bioetica informazione ma senz'altro anche questo corso estivo che la teneo e la facoltà vanno a fare occorre che appunto ci si metta un po in discussione a vicenda ci si contagi in modo che questo l'idea della domanda che poi quella che caratterizza anche l'opinione pubblica che cosa siamo noi come utenti di informazione se non persone che si fanno domande dal mattino alla sera di fronte a quello che accade ecco quindi viviamo in una incertezza esistenziale forse in cerca affannosa di qualcuno che una certezza ce la dia e quindi ci aggrappiamo in questa alluvione di informazioni al primo che sembra saperla lunga o proporsi come personaggio autorevole in qualche modo però ecco sono temi che vorrei girare al collega Mino Carrara proprio perché il giornalista vive sulla sua pelle costantemente tutti i giorni questo questo senso di inadeguatezza di incertezza ma anche la pretesa di aver capito tutto e di dire ecco le cose stanno così Mino spiegaci dal punto di vista peraltro tu farei una relazione di carattere più storico sulle notizie relative a qualche accenno anche innanzitutto grazie complimenti mi chiedo scusa per il collegamento ho avuto problemi tecnici infatti dicevo rimpiago i piccioni viaggiatori che quelli creavano meno problemi mi è piaciuto molto la tua osservazione quando hai detto di verità libertà e giustizia l'informazione deve agganciarsi a principi etici non ci sono santi o si parte da quelli o se non facciamo già si fa il tifo comunque e in questo mi viene in mente una una storiella che avevo letto tantissimi anni fa su un'antologia l'inventore si presenta al re e gli propone gli fa vedere un bastone e dice ma che cos'è questo un bastone a cosa serve serve uccidere gli animali così abbiamo più mangiare per la nostra gente in parte c'è il guerriero e dice maestà questa è una cosa molto bella perché perché con questo potremmo uccidere molti nemici e avere più territorio loro il bastone è buono o cattivo è come lo usi l'informazione è buona o cattiva e la notizia come la gestisci e a questo punto mi soccorre una frase del bello gallico ferali benter omines idquod volunt credunt ovvero generalmente gli uomini credono volentieri a ciò che fa loro piacere e l'abbiamo visto adesso col covit abbiamo visto come bastava un una cosa i terapeutisti negazionisti chi non voleva mettere la mascherina diceva no non va bene si attaccava a questo o quell'altro che diceva no non utilizzate lo stesso discorso per la vaccinazione ma è piaciuto molto quando padre alberto prima detto che la scienza si basa sui dubbi e gli errori a partire dalle vaccinazioni la gente invece oggi che molto scontenta lo percepiamo lo percepire lo percepiranno anche i tuoi colleghi ha permetto scusa un inciso io non sono più dell'eco di bergamo lo ero adesso sono uscito no affinché non non venga attribuita una una cosa di cui sono libero professionista dicevo quindi c'è questa 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 situazione di incertezza e s'aspettavano quelli che come me anche creduto nella verità del vaccino si aspettavano che il vaccino risolvesse tutto purtroppo il vaccino ha risolto gran parte delle cose ma non ha risolto tutto speriamo anche lì far capire che guarda che questa è una malattia tipo influenzale pertanto il vaccino è completamente diverso a ogni anno a maggior ragione anche in questo caso io però visto che tu hai fatto accenno alla relazione storica che che farò c'è un'altra frase che voglio che voglio proporre agli ascoltatori ai partecipanti ed è questa i medici non bastavano a causa della loro non conoscenza della malattia visto che la curavano per la prima volta ma proprio loro in modo particolare morivano quanto più si avvicinavano i malati questa frase potrebbe essere stata tranquillamente tolta da qualsiasi giornale uscito negli anni nel nel 2020 in realtà è di 2500 anni fa la scrive tucidide nella guerra del peloponneso allora niente di nuovo sotto il sole questo è vero avevano mezzi diversi però quanti medici sono morti 200 medici sono morti a curare e c'è ancora oggi gente che dice che i medici curavano male allora il medico è così stupido che cura male se stesso prima ancora di curare male il paziente ecco vediamo già come ci sono questi cortocircuiti mentali un'altra cosa che ci racconta ancora tucidide per esempio è la diffusione del morbo che arriva via mare con le navi arriva dalla dal nord africa e arriva ad atene questo arrivo ci fa capire e già lo sappiamo che che le epidemie viaggiano con le gambe degli uomini non vengono gettate dal cielo con qualche con qualche aereo assolutamente no ha sempre funzionato così dei tempi di tucidide ma quando risalgono le prime malattie le prime epidemie beh è interessante anche questo perché nel 1500 avanti cristo troviamo un dio della peste tra gli egizi allora se c'è un dio della peste vuol dire che esiste un concetto che esiste una malattia contagiosa anche perché il concetto peste poi viene utilizzato in molte altre in molte altre occasioni prima di dare il nome effettivo alla malattia peste c'è un aspetto morale nella nelle malattie nella epidemie ed è l'aspetto più terribile perché in tutta la malattia lo sconforto assaliva le persone quello che abbiamo visto durante la prima la pandemia c'è un effetto ritualità l'aver tolto i funerali alle persone è stato interrotto è stato cancellata i tutti i riti di congedo che come insegnano bene di psicologi sono una fase importantissima nel momento in cui una persona muore e la si stacca dalla famiglia si crea questo periodo di gestazione che mi calcolato tra i nove mesi un anno nel corso del quale c'è l'elaborazione del lutto il le pestilenze sono state moltissime nella storia ma perché ho detto le stelle pestilenze che hanno cambiato la storia la nostra società oggi non si è detto mille volte usciremo migliori io gente migliori non l'ho vista molto ho visto gente molto arrabbiata migliore speriamo che lo sia in futuro al momento assolutamente no il però la vita ce la sta cambiando il telelavoro ci sono stati ho partecipato a una convegno dove degli commercianti dei professionisti e così lamentavano il fatto che dimita la gente che va a mangiare al bar ci si sta mettendo crisi col telelavoro questo un aspetto peccato che fino a ieri ci dicevano che meno pendolarismo c'è e meno inquinamento c'è vediamo un po di metterci d'accordo far dialogare il famose due metà del cervello destro sinistro non in senso politico ma il senso puramente fisico il l'altro aspetto ancora interessante per esempio che la peste di atene cosa provoca provoca la sconfitta di atene perché viene indebolita perché era tranquilla nell'interno delle sue mur ma se perde metà dell'esercito non può andare avanti un effetto analogo ce l'ha la peste degli antonini che colpisce l'impero romano nel terzo secolo viene indebolito incamerano i germani nelle nell'esercito l'esercito romani incomincia passami il termine non in bastardissima a inquinarsi la società romana perde siamo ancora lontani dal dall'accaduto dell'impero però incomincia hanno a gettarsi questi semi che non riesce più a fronteggiare queste popolazioni che arrivavano per non parlare della peste di giustiniano che indebolisce anche quella l'impero romano d'oriente ma c'è un passaggio questo molto interessante che ho scoperto ancora ricercando qua e là nel mondo musulmano nelle sure della del corano il profeta dice se udite che in una terra c'è la peste non vi entrate e se la peste appare in una terra dove siete non ne uscite avevano già capito che la peste camminava con le persone farlo vi ricordate con lo down le polemiche che ci sono state ecco questo è uno degli effetti allora raccontare anche in questo caso la verità la verità non sempre non sempre piace e questo un altro aspetto aspetto importante e su questo si innesta un'altra cosa si innesta tutto il chiamiamolo fenomeno non lo so lì la chiamerei la piaga delle fake news e qui lo dico da giornalista lo mi rivolgo agli editori noi dobbiamo prendere una posizione nei confronti di questo proliferare nei media perché non è possibile che io o te facciamo un'informazione falsa finiamo davanti al tribunale finiamo davanti agli organi di giustizia disciplinare dell'ordine rischiamo di essere radiati rischiamo la censura rischiamo condanne pecuniarie questa gente impunemente diffonde il falso quindi con discorso di responsabilità perché la libertà è un conto la libertà di dire noi abbiamo la libertà di dire come loro ma noi se diciamo cose non vere siamo sanzionati perché questa gente non è sanzionata e non è sanzionabile si nasconde dietro a uno pseudonimo si nasconde dietro si nasconde questa è la cosa perché un giornalista il coraggio delle sue azioni dice e esce e firma e se non è lui che scrive che racconta c'è un direttore che risponde per lui questi signori su facebook su instagram su tik tok sull'accidente a cavallo arriverà una nuova di sicuro tra qualche mese di di queste reti raccontano ciò che vogliono e raccontano e avvelenano i pozzi perché lì sarà da andare anche da capire chi è che sta avvelenando i pozzi chiudo ricordando un'altra altre due pestilenze importanti perché così lascio spazio anche ad altri due pestenze molto importanti come la peste nera del trecento che parte dalla cina guarda caso per una volta parte da lì e viene portata con le navi commerciali di genova e di venezia e questa quella famosa perché raccontata da boccaccio e raccontata e che poi nella quale trova la morte laura noves la mitica donna ideale di petrarca e questa questa peste blocca impoverisce le città per raggiungere la popolazione del 1300 del metà del 1300 devono passare cento anni nel 1460 quindi se non c'è uno stravolgimento questo siena per esempio si impoverisce non termina la costruzione del duomo quello che vediamo noi un braccio del transetto non è tutto il buono figuriamoci che doveva essere il buono ci sono tra l'altro il portale il facciatone c'è esiste però questa è stata una delle delle conseguenze una delle altre conseguenze invece positive è la nascita dei lazaretti e sono a venezia e la nascita della quarantena che i veneziani chiamano trentena all'inizio per fermare le navi nel port prima che entrino in porto a differenza di quanto accade a genova che non una nave sfugge e porta la peste poi mettono e cominciano a bruciare i naviglio leggero all'ingresso del porto non entra più nessuno allora vanno a marsiglia e contagiano marsiglia questo è sono i sono i vari i vari effetti l'ultima interessante è la peste dei quella raccontata da manzoni perché manzoni si fa documenti originali e uno di questi dice racconta così il tribunale della sanità chiedeva implorava cooperazione ma otteneva poco niente e nel tribunale stesso la premura era ben lontana dall'uguagliare l'urgenza così forse per ostacoli frapposti da magistrati superiori la decisione di chiudere in milano fu presi il 30 ottobre ma non fu stesa che il 23 del mese seguente che non fu pubblicata che il 29 di novembre la peste era già in milano ci ricorda qualcosa questo a me ricorda molto alzano il nome non aver fatto la zona rossa sono non voglio essere semplicistico però secondo qualcuno avrebbe separato la zona rossa d'alzano magari lì non sarebbe successo il gran parte di quel putiferio che non purtroppo a bergamo abbiamo pagato in prima persona l'ultima pestile l'ultima epidemia importante riguarda come si dice riguarda ovviamente la l'influenza spagnola 50 milioni di morti così tanto per ricordarcelo anche questo viene portati in europa dagli dagli dei cinesi la portate in america dei cinesi cinesi poi arrivano anche in europa come come lavoratori a seguito delle truppe tedesche truppe americane e anche questa per conseguenze sulla prima guerra mondiale l'esercito tedesco è falcidiato dalle malati di spagnola e la grande offensiva di primavera che poi finisce a luglio che avrebbe dovuto sfondare per portare a parigi infatti sono nuovamente avvicinati molto non riesce ma dice ma anche le truppe dell'intesa avevano malati certo anche loro avevano la epidemia ma avevano risorse perché arrivavano truppe fresche dalla medica che invece in la germania non poteva più avere ecco questo è un altro aspetto di come ancora una volta un'epidemia ha cambiato il corso della storia io credo di avere sinteticamente raccontato un po' questo questo aspetto aspetto che mi aveva molto incuriosito proprio durante la pandemia mi sono detto fammi un po vedere quale è successo nel passato e cominciato a cercare scartabellare libri a navigare non tanto in internet ma guardarmi le enciclopedie che sono ancora la fonte migliore e per trovare trovare questi argomenti ho trovato questo questo racconto io vi ringrazio per l'attenzione ringrazio te eccoci grazie mino grazie perché ci hai fatto respirare un po di storia e anche lo dico proprio da collega il fascino della conoscenza che quando si si tocca con mano tra giornalisti è sempre è sempre bello perché il mestiere il mestiere dell'informazione vive di conoscenza conoscenza storica conoscenza prospettica che i fatti sembrino nati oggi mentre in realtà hanno tutti un passato e soprattutto istoria magistra vite ma è uomo pessimo discepolo e questa drammatica verità basterebbe leggere il passato e veristeresti tantissimi errori nel presente vedo con grande piacere che si è affacciato filippo boscia un amico che saluto con affetto e con gratitudine perché trovate il tempo per partecipare in coda questo webinar siamo stati siete stati tutti bravissimi esemplari a rispettare i vostri tempi un quarto d'ora quindi siamo arrivati praticamente puntuali chiedo filippo si riesce a condensare in un quarto d'ora le sue considerazioni so che appunto lui ha sempre molte cose da dire sempre molto interessanti un piacere ascoltarlo così possiamo chiudere sostanzialmente puntuali filippo ti ringrazio molto davvero per essere qui tra noi grazie grazie molto perché questa è un'occasione per me privilegiata anche per comunicare alcuni disagi che io sto vivendo da medico e da ricercatore nel momento in cui siamo in un momento storico quello attuale nel quale l'informazione a mio avviso rincorre più il sensazionalismo che la verità fattuale e ovviamente io mi sono smesso molto spesso messo a fermarmi per domandarmi se questa comunicazione che viene così diffusa è stata definita infodemia sia in realtà un fatto positivo per il giornalismo e se il giornalismo abbia un'etica la deve avere per forza la deve avere per codice deutologico e credo che questo ce lo ricorda tutti i giorni però oggi la problematica non è questa la velocità con il quale con la quale si deve dare la comunicazione è praticamente diventata anch'essa virale allora la prima la velocità era importante ma non era essenziale era fondamentale verificare le notizie questo sia dal punto di vista dei ricercatori sia dal punto di vista dei medici sia dal punto di vista anche dei giornalisti e diciamo prima di pubblicarle e prima di dare un nome e cognome ai volti che diciamo occorreva sentire tutte le campane occorreva anche nell'ambito della scienza interpellare il capo area diciamo così e e viceversa in questo momento questo verticismo anche nella nella ricerca nella scienza va un momentino perso e allora assistiamo e molto soprattutto in diciamo forse anche sui giornali e sull'attiratura importante ma anche dobbiamo includere eh quei giornali che eh rappresentano delle aree geografiche più piccole assistiamo a dei pezzi ad personam in cui si sentono unici pareri senza farsi mai venire il dubbio che qualcuno potrebbe avere un'opinione diversa e quindi eh che questa opinione vada sentita l'etica io credo che si sia un po' persa per strada in questo in questo contesto oggi vince certamente chi pubblica prima chi genera più clic più like e ma soprattutto chi pubblica prima può creare dei flussi che sono flussi di clientela flussi di stimolo al diciamo alla medicina del desiderio eh flussi che danno speranza che creano movimenti anche di pazienti anche dal tra nord e sud tra stati e stati quindi comunicare la scienza che qualche volta è diventata anche arrogante assolutista non è più semplice come prima perché in questo periodo abbiamo avuto in sostanza negli ultimi anni eh dei dei segnali che sono diciamo praticamente eh eh notati sono stati notati e e ovviamente rappresentano una una certa angoscia anche perché queste diciamo comunicazioni molto spesso si associano anche a dei movimenti antiscientifici o alla diffusione di notizie diciamo che sono abbastanza incerte e c'è sempre una forte pressione io credo dalle testate giornalistiche viene e si sente questa pressione affinché si comunichi di più è meglio ora io credo che noi eh ci dobbiamo interrogare che cosa possiamo fare di più diciamo questa questa mia esigenza che poi è l'esigenza anche di di tantissimi miei colleghi che ora presento ma è l'esigenza anche di tanti bioeticisti e l'abbiamo più volte analizzata nella eh diciamo società di bioetica e comitati etici e perché ci chiediamo che cosa possiamo fare di più e che cosa dobbiamo fare di di più per cui forse noi dovremmo perseguire un progetto di organizzare dei corsi propedeutici di comunicazione della scienza perché comunicare diciamo la scienza non significa solo tradurre dal gergo tecnico al linguaggio di senso comune la notizia è qualcosa di più complesso non occorre soltanto parlare di risultati ma far capire il concetto della scienza come realtà in progresso e far capire il concetto del metodo scientifico e far capire il concetto della revisione delle ricerche e quindi applicare un metodo scientifico soprattutto a chi deve parlare o per chi deve parlare al grande pubblico non basta praticamente portare avanti dei dati o seppellire degli altri perché qualche volta si si utilizza anche questa antiscienza o anti o anticomunicazione ma noi dovremmo entrare dentro diciamo la problematica dell'evoluzione della scienza non portare soltanto una narrazione dei dei fenomeni e poi noi dobbiamo avere molto rispetto e attenzione nei confronti dell'importanza strategica della comunicazione nella nella scienza e non ci si deve mai improvvisare i comunicatori eh della scienza ma eh si è scienziati e giornalisti se c'è eh professionalità voglio tirar fuori un esempio qualche anno fa pagine dei giornali sono state riempite perché un preparato nuovo innovativo un antiormone poteva essere usato per risolvere i fibromi dell'utero quindi sono venuti fuori forse una quarantina di articoli attenzione non c'è bisogno più di operarsi perché in taluni centri che sono stati autorizzati alla ricerca su questo si danno soltanto delle compresse delle pillole e tutto si risolve ovviamente questo ha creato un disastro fin quando praticamente l'organizzazione mondiale della sanità e altre agenzie abilitate a comunicare anche gli effetti collaterali hanno detto attenzione perché ci sono delle necrosi epatiche che evolvono anche purtroppo in eh diciamo necessità di trapianto epatico e qui qualcuno ha detto ah ma no ma se lo stesso farmaco viene usato per interrompere la gravidanza ai cinque giorni ma perché ci preoccupiamo se d'altro canto questo farmaco che crea l'aborto ai cinque giorni è dispensabile di farmacia addirittura senza ricetta medica grandissima confusione in questo senso c'è anche la problematica delle aziende le aziende spingono perché si creano dei bisogni sanitari le aziende spingono perché si crea anche una sperimentazione che non si è completata ma diciamo il terzo livello di sperimentazione quasi quasi sempre si comincia a fare con volontari e con persone che eh credendo in questa comunicazione eh praticamente eh accettano ovviamente questo consenso consenso forzato è un consenso del quale abbiamo eh il dovere di comunicare che eh è basato su dati ancora incompleti allora io credo che accorrono dei modelli organizzativi che valorizzino la comunicazione che educhino sia i medici a cercare la giusta vicinanza alla verità e sia diciamo gli gli ammalati a trovare una giusta distanza quindi nella comunicazione che poi è condizione direi è tempo di cura noi siamo in medicina lo abbiamo ripetuto anche la comunicazione tra medico tra medico e paziente è una comunicazione che può essere viziata da un linguaggio scorretto e non completo sicché praticamente eh diciamo la notizia che è stata spogliata di un linguaggio diciamo tecnico è diventato un diciamo una difesa eh il glossario che noi eh utilizziamo è diventato un mezzo per comunicare dico eh quasi propagandare una determinata tecnica eh analoga situazione a quella che ho raccontato la si verifica quando c'è un'implementazione tecnologica non si vede più a chi deve fare l'intervento o a chi deve proporre il eh eh proporsi come medico per eh diciamo eh migliorare la la qualità della della nostra vita ma si mette in in pole position la eh tecnologia ma la tecnologia che si spoglia eh diciamo anche di quel vissuto eh professionale etico di vicinanza è è qualcosa che viene spinta dalle imprese che cercano un vantaggio competitivo reale a spese viceversa di altre impostazioni che possono tranquillamente essere eh continuate e eh diciamo non offuscate da da queste scoperte eh raggiunte io credo che per facilitare ogni migliore progresso nei vari campi di ricerca ci sia necessità prima ed essenziale di eh una funzione comunicativa scientifica alla quale praticamente se ne aggiunge eh doverosamente eh quasi di conseguente di conseguenza la non meno importante comunicazione eh diciamo di promozione quella che noi chiamiamo di divulgazione scientifica che è diretta a raggiungere con un linguaggio il più semplice possibile un pubblico il più ampio possibile quindi si tratta in sostanza di portare avanti degli obiettivi complementari e informare e comunicare il primo è centrato sull'oggetto il secondo sulla relazione non possiamo scindere informazione e comunicazione perché noi arriviamo nell'ambito della cura a curare attraverso la comunicazione anche non soltanto attraverso la conoscenza della della tecnologia e ovviamente eh diciamo eh la comunicazione implica anche il mettere in comune con più soggetti una conoscenza acquisita proprio attraverso un lavoro un lavoro diciamo che è duro un lavoro che deve essere eh scrupoloso e che non può essere sensazionale eh se noi non riusciamo a conoscere la profondità di qualcosa come facciamo ad informare gli altri sulla natura sull'evoluzione sulle conseguenze e sugli sviluppi l'informazione a mio avviso deve diventare feconda non soltanto nell'ambito di una eh relazione ma eh nell'ambito di quel confronto che è importante ed è obbligato e che la conoscenza eh diciamo ci mette a a disposizione non a caso la scienza orienta spesso la sua ricerca secondo due e coordinate eh la problematica specializzazione e iper specializzazione tra ehm unità operativa complessa e unità operativa complessa sperimentale eh tra unità operativa eh ospedaliera unità operativa e unità operativa di eccellenza cioè andiamo veramente a modificare cercando di qualche volta di sgretolare anche delle realtà che sono eh diciamo mirabilmente capaci anche attraverso il sacrificio dei dei professionisti di continuare a dare una eh un'assistenza buona eh spesso sentiamo parlare di diseguaglianza eh in in sanità e la le diseguaglianze di salute in sanità si esprimono costantemente il sud non funziona il nord funziona meglio ma non è così perché in questo modo si vanno a penalizzare anche delle persone che in diciamo in in un buon silenzio in un umile eh diciamo approccio ai problemi della salute e alla ai problemi eh soprattutto della comprensione della sofferenza eh qualche volta eh diciamo eh penalizzano eh realtà che poi sono le uniche che sono a disposizione in quel determinato eh territorio io ho l'impressione che eh in medicina stia eh per entrare un pernicioso eh eh assioma eh vince chi pubblica prima eh vince eh diciamo chi ha per primo la tecnologia già nel passato circa trenta quaranta anni fa io ricordo una tecnologia per eh la diagnostica della tiroide impostata ad Ancona eh ottimo centro ha creato dei flussi di pazienti in e che e continuano ancora oggi e questo certamente va a scapito di realtà anche diciamo inserite in in luoghi diversi e magari anche periferici eh dell'Italia che in questo senso operano bene eh con con etica eh poi c'è un altro aspetto eh c'è uno studio scientifico interessante che è stato pubblicato qual è il rapporto tra gli autori di una ricerca e i giornalisti? Spesso si intervistano solo gli autori e così il pezzo diventa una sorta di comunicato stampa non c'è il contraddittorio non c'è il contraddittorio per esempio tra ricercatori della stessa area ma c'è solo ed esclusivamente una comunicazione della notizia dagli autori del pezzo. Allora faccio questo esempio perché è quello che più riscontro nel nel mio eh nel mio lavoro e credo che sia più calzante per tutti gli ambiti eh della informazione. Eh credo anche che oggi si pubblica spesso senza pensare alla reale eh utilità della notizia. Allora ci chiediamo è tutto utile quello che leggiamo o più spesso possiamo trovare dei rumori di fondo delle ridondanze di notizie riprese rimaneggiate scopiazzate senza il minimo controllo il rischio è che in questo inutile eccesso di notizie è un po' come eh eh Whatsapp sfugga quella notizia che invece è quella più utile perché è sovrastata da tutte le altre quindi praticamente esce esce di campo e io credo che le big news che dilaggano eh diciamo eh possano avere questa eh origine eh e questo accade perché il giornalismo non ha saputo fare da argine anzi spesso dire è diventato vittima e durante il periodo della pandemia da coronavirus eh sono emerse anche delle altre eh ombre sull'informazione poca voglia di approfondire minima conoscenza di come si leggono gli studi scientifici la ricerca del sensazionalismo con microponi che sono stati sempre accessi su virologi infettivologi di turno che non hanno detto mai la stessa cosa ognuno ne diceva un altro e allora ecco forse noi dovremmo ritornare sia per i ricercatori sia per i medici sia eh per diciamo i promotori di tecnologia avanzata a ridefinire che cosa significhi eh deontologia che è un termine già coniato nella prima metà del dell'ottocento ma significa letteralmente studio del dovere eh dal dal greco eh eh deontologia eh l'etica da etos è proprio quella branca della filosofia che indaga su questi comportamenti umani e di fronte ai concetti del bene e del e del male eh è importante che questi elementi vi siano un momentino eh risottolineati soprattutto proprio da noi anche attraverso questi incontri che stiamo facendo e di quali io ringrazio eh tantissimo la eh l'università eh regina apostolorum eh perché eh l'informazione scientifica è essenziale con il dottor Arosio e con tutti gli altri amici abbiamo chiesto vorremmo che si radicasse sui singoli territori ma soprattutto in luoghi di di eccellenza di formazione eh questa eh diciamo realtà del giornalismo scientifico di verità perché spesso eh diciamo noi il giornalismo scientifico è tutto il giornalismo scientifico noi vogliamo la verità a me hanno risposto subito qualcuno dei giornalisti eh ma cosa credere professore che i diritti e la dignità delle persone malate non vengono da noi osservati eh noi evitiamo le la pubblicazione su argomenti scientifici di sensazionalismo ma io non ho questa questa stessa eh visione eh guardando la diffusione delle notizie sanitari mi rendo conto che spesso non sono verificate eh da autorevoli fonti eh scientifiche però eh qualche volta addirittura citano i nomi commerciali dei farmaci o dei prodotti in un contesto che possa poi favorirne il consumo e ovviamente queste tempestive notizie eh su quelli ritirati o sospesi perché questa è un'altra gemma che va considerata nell'ambito del del giornalismo eh va va vista con particolare attenzione e ritirato dal commercio perché è nocivo alla salute o perché il prezzo non era più adeguato a coprire eh diciamo i bisogni aziendali o perché non era stata fatta una revisione del del prezzo. Io credo che eh diciamo su questa su questo fronte ehm sarebbe molto bello che si cominciasse a lavorare tenendo presente che tutti coloro i quali devono entrare in in questo settore che è quello della informazione eh vadano a costituire una sorta di testo unico che comunque voglia costituire secondo la mia visione una presa di coscienza ehm eh per diciamo distinguere eh le eh situazioni eh che possono decisamente sfuggire di mano dalle situazioni che devono essere verificate con correttezza, trasparenza, competenze, cioè conoscenza del tema di cui si sta scrivendo, adesione alla verità fattuale con un copito che non sia più quello né di allarmare di né di infondere delle speranze ma di raccontare i fatti nel modo più oggettivo possibile. Grazie. Ippo Boscia, Presidente dei Medici Cattolici, grazie, grazie anche per la tua passione che conosciamo e apprezziamo oltre che la competenza maturata sul campo eh dal punto di vista clinico scientifico ma anche di persona che sta dentro il flusso dell'informazione. Io ho assistito la tua, i vari tuoi interventi su questo tema, è sempre un tema che ti appassiona e che come vediamo poi sembra un po' calare nella pratica di tutti i giorni quello che abbiamo sentito dalle relazioni precedenti. Eh siamo arrivati in chiusura di questo webinar questa mattina con ci siamo presi un quarto d'ora accademico in coda anziché all'inizio per concludere bene, riuscire a dare la parola a tutti. Eh siamo stati seguiti anche da diverse persone online, ho ricevuto un messaggio purtroppo anonimo, quindi ho chiesto l'identità della persona che ci ha mandato, non ha risposto, cito soltanto qualche riga un po' per avere un eco di chi ci sta ascoltando e bisognerebbe creare, leggo, una perfetta sinergia tra gli esperti del mondo scientifico e gli esperti del mondo dell'informazione per le questioni delicate della bioetica che sono all'ordine del giorno. Solo così si potrebbero avere più notizie credibili e vere per qualità e per contenute non semplici e sterili copie in colla che servono solo a confondere di più le idee. Ecco, questo mi pare che rilanci quel giornalismo scientifico di verità che dicevi tu Filippo e che richiede appunto un'adesione, come diceva, alla verità fattuale al di là delle emozioni e delle polemiche. Non mi resta che ringraziare innanzitutto l'Ateneo per questa iniziativa, questa idea che è veramente molto opportuna come abbiamo ampiamente visto, quindi anche la facoltà di bioetica, i professori che sono intervenuti, Alberto Garzia, Gonzalo Miranda, Alberto Carrara, Filippo Maria Boscio, il collega Mino Carrara e tutti voi che ci avete seguito. Vi rimandiamo senza dubbio all'atto che seguirà come naturale conseguenza questa mattinata di lavori, ovvero il corso estivo con il modulo formativo per giornalisti 5-6 luglio, con il programma che è reperibile comunque sui canali e sui siti informativi dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, perché credo che abbiamo visto appunto con molta chiarezza quali sono le questioni in gioco rilevantissime. Mi giunge ora la precisazione su chi ha firmato questo messaggio, Marco Francesco Eramo, docente di scienze umane e studente di bioetica, che è appunto completo l'informazione precedente. Penso che abbiamo concluso, ringrazio davvero tutti e ringrazio per la pazienza che ci ha seguiti, ma ne è valsa veramente la pena perché è stato un'ora e mezzo davvero appassionante per chi si occupa di questi temi, ma credo anche per chi non è particolarmente ferrato e si rende conto di quanto sia importante e dedicata l'intreccio tra bioetica e informazioni oggi, sempre più rilevante. Quindi grazie a tutti e l'appuntamento è rimandato alle prossime incontri organizzati dell'Ateneo e della Facoltà. Grazie e arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie Francesco, grazie Maria Selva. Applauso, mi dico un applauso da chi qua. Grazie Francesco, a nome dell'Ateneo e grazie a tutti e a presto perché ci saranno altri appuntamenti. Grazie.